a armoni se di siano piacere che nuova serie su come avete capito casi strada come cazzo ok siamo sull'xbox quindi non so nemmeno un tasto come i bette allora aspettate devo prendere ok 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 spero di dover andare di qua allora mi ha detto stai giù quindi io sto giù allora s sono andato io non sento bene i suoni dalla vince del xbox perchè appunto sto registrando con audacity mentre gioco sull'xbox che cattolano fancube sa quanti anni allora stavano per fare lo stesso a te allora non so dove andare ok database profetto nome vabbè ok ma io voglio ammazzare la gente cristo allora ora ma quando doveva andare sistema di sicurezza ma doveva ma dove devo andare ma raga mi sa che ho sbagliato qualche cosa ho sbagliato tutto mi sa dove devo andare dove devo andare oh cristo non sale sto sto malandri facciamo non si può fare riparti da check point modifiche difficoltà stato riprendi corazza massimo sto pene io devo arrivare la penso raga vi ho detto io non sono un pene di sto gioco quindi no non salta allora facciamo scusate esci si allora facciamo campagna nuova campagna no allora riprendi partita e adesso la ricomincio eh non va cristo vabbè non riesco a fare mai una prima missione cioè che cazzo di schifo ma giocare dal computer al xbox è proprio una difficoltà pazzesca ma chi cazzo è un città ma chi cazzo è un città sto chi o io lo seguo quel che momi per di no capo romano qui romeo allora nessun riscaldamento passo allora andiamo di qua scoppiando il c'è fatto allora i tizi che hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni i tizi che mi hanno strappato la mia moglie come i tizi che stavano per fare lo stesso a te i tizi ma che cazzo sto dicendo sto e non lo riapre il database io voglio ammazzare le persone da mila che cazzo è che cazzo è dove va dato quel tipo che è rotto ma 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 delle armi silenziatore perfetto stiamo entrando dalla porta principale apri vado se un cazzone apri stanza folle da fare una cosa del genere allora apri sta a merda ma tutti ammazzo ok dove stanno i tizi suppongo che io debba liberare la zona ho fatto la mia prima kill sulla xbox ricaricati ricaricati porco ma perchè se ne va da solo occultamente attivo allora devo arrivare fino alla testa ok quello è morto no non finire no cazzo sono in mezzo alla merda sono estremamente in mezzo alla merda vai qua dietro coglioni vai 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 cadica di cadica di cadica vai vai cadica di cadica vai vai cadica di cadica ok il felino ok ma dove cazzo vado ma sto gioco è tutto malato dove vado dove la sta l'obiettivo no ma sto un tizio allora no ma da amata 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 ma da amata amata il giro sono attivo Allora dobbiamo andare di là se non mi sbaglio Però sto failing fa troppo casino alla madonna Ragazzi faremo anche il gioco in multiplayer quindi Quindi Ma che cazzo RT è questo Che cazzo di pro Guardate quanto cazzo è pro il failing Mantieni X Vai Dove Cristo devo andare Ma ho superato il coso Ah no vero Merda Perché ascolto mio fratello Quella merda Allora aspettiamo un attimo Via Allora non corro perché consuma energia Infatti Mantieni X per usare Ma non ho capito perché se ne vada solo sto coso Ah sta quello Ehi chi Romeo 1 E Giulietta 2 E' molto meglio questo Ecco chi sta Un arco Sarai una macchina di morte O che cazzo è invisibile Questa è il roba segno Non ci sta un checkpoint così veloce e veloce a Cristo una parte migliore spegniamo l'episodio e lo prendiamo la prossima che cazzo di figata che cazzo di figata fammelo provato e lo cazzo x per saltare volo provare questa merda vedi se ne vada solo sto mouse sto cazzo in cui romeo 1 abbiamo raggiunto pox trattato 4 guarda guarda cammina da solo ma che cazzo è vabbè mio fratello si compra le cose tarocca giulietta 2 appuntamento allora facciamo un paio di chi lo sta a otto simu mo devono venire conto di me ma vi rendete conto che cazzo di cacciatore amma simu aspettato mi sa che ma no leggermente visto dove sta no ok ammazzato chi bello è che non so dove andare andando ma lo guardiamo un po' dobbiamo fare questo gioco è un posto è alto un po' no 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 la ricarica che no dove sta no dove sta no ma che cazzo vogliono fare contro robin hood qua dove dove ok saliamo su cerchiamo di andare più velocemente possibile aspetta x per recuperare i dati ma dove stavano i dati allora dove ah adesso sì ma se ti muovi ti devo ti sparo in testo ok 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 che cazzo di figata la grafica dove ci stiamo allora siamo nel cuore della sede hanno mille o due come merda come cazzo faccio come cazzo faccio allora se sentite risate sono due ricchioni da kit e mio frate state zitti nel culo di tua sorella lo sai che quando ti strappano la tuta ok allora si aveva qui c'è un video della madonna per recuperare i dati no registrazione sbloccata non ne può frega di me c'è sto sto ragazzo se ne va da solo guarda faccio un pene sì ma se non ti muove a sbloccare ma guarda da solo se ne va no ti ti butto una te ti copro io vediamoci su e' visto come si apre l'arco troppo a pompa e' l'arcomo come lo riprendo come lo ripeto ve lo riprendo l'arco dove lo prendo l'arco ma do cristo moscoli da dove lo prendo l'arco da dove lo prendo l'arco da dove lo prendo l'arco qualcuno mi sa dire da dove lo prendo l'arco si ma io voglio l'arco informazioni come faccio no raga non mi incazzo si muove da solo no raga